ben trovati amici alla rassegna stampa di fano tv oggi è sabato 13 aprile 2024 è una giornata calda una giornata serena avremo un weekend molto molto dolce è primavera e quindi la assaporiamo tutta e intanto noi iniziamo la giornata leggendo i giornali il resto del carlino e corriere adriatico con le pagine locali in modo particolare e allora passiamo subito all'almanacco del giorno e vedere qual è il santo che si festeggia oggi eccolo qua nella grafica è san martino papa martire visse nel settimo secolo era di todi fu consacrato sacerdote e inviato come enunzio a costantinopoli morto il papa allora il papa era teodoro fu richiamato a roma a succedergli qui convocò il concilio lateranense contro le eresie dei monoteliti ma questi con la complicità dell'imperatore di costantinopoli che era costante lo rapirono lo riportarono a costantinopoli lo imprigionarono e infine lo uccisero invitato dall'imperatore a sottoscrivere gli editti che erano stati da lui condannati rispose con la celebre frase non possumus non possiamo cosa che gli costò poi la vita e appunto martino fu martirizzato non è il martino del mantello è un altro martino ma sono entrambi santi e quindi sono venerabili ed ora passiamo alle previsioni del tempo e vediamo con la grafica che oggi si mantiene stabile il tempo su tutte le marche sarà una giornata soleggiata su gran parte dell'italia temperature in graduale aumento e le temperature vanno da 12 la minima e 20 gradi la massima sono comunque stabili i venti sulle coste espireranno da nord nord ovest nella entroterra da nord nord est comunque le temperature dovrebbero essere in calo il mare e calmo il sole è sorto alle 6 e 27 e tramonterà alle 19 e 48 e bene dopo questo preambolo possiamo aprire i giornali a partire oggi dal corriere adriatico e vediamo l'apertura su fano eccola qua dedicata ad una intervista ieri abbiamo intervistato con il corriere adriatico il candidato del partito democratico cristian fanesi oggi abbiamo invece una intervista fatta al candidato di in comune che è samuele mascarin sono i due sfidanti che domani si sfideranno nella secondo nel secondo atto delle primarie dopo che nel primo la il gruppo dei candidati è stato sfoltito è stato ridotto da 4 a 2 il primo impegno di mascarin sarà la sanità pubblica serve ha detto un centro-sinistra meno timido mascarin è ottimista sul balottaggio sono di sinistra e ho il sostegno di tanti moderati e cattolici ha dichiarato ci sono delle interviste che lorenzo furlani fa questo candidato la prima è quella che gli chiede la prima la prima il primo il primo la prima domanda è quella che gli chiede quale sarà la priorità del suo mandato ed è appunto la difesa della sanità pubblica e il tema della sanità oggi è molto presente sui giornali perché ci sono tutte le ripercussioni che ha determinato la di le dimissioni della direttrice della sanità dell'azienda sanitaria territoriale nadia storti una dimissione che è un po un atto di protesta nei confronti della giunta regionale così almeno appare dai giornali c'è un dissidio con il assessore alla sanità filippo saltamartini comunque filippo saltamartini poi lo nega lo vedremo sulle le sue le sue dichiarazioni sulle pagine dei giornali dicendo che con la storti c'è stato sempre la massima libertà di azione da parte della direttrice insomma poi le cose sono un po così c'è da una parte si dice una cosa dall'altra se ne dice un'altra vediamo una risposta che dà mascarin all'intervistatore politicamente dopo le elezioni di giugno che cosa servirà a fano gli chiede il giornalista e samuele risponde fano ha di fronte a sé molte sfide e per affrontarle servirà una politica capace di ascoltare e mediare ma anche di prendere ogni giorno decisioni coraggiose quelle decisioni che non sono state prese durante il quinquennato che sta per terminare l'aset pubblica la sanità il welfare le infrastrutture fano dovrà essere protagonista e per farlo servirà un centro-sinistra più coeso e meno timido che in passato insomma il fatto della aset la difesa dell'aset il rapporto con marche multiservizi il digestore il problema della sanità la interquartieri la fine dell'interquartieri a Gimarra insomma sono state tutte decisioni che per il prolungarsi del tempo senza prendere una decisione finale ha poi causato i problemi che ora sono alla ribalta sono sul tavolo del nuovo sindaco e poi vediamo invece un politico che sta avendo successo ed è Mirko Carloni Mirko Carloni è stato premiato da un awards si tratta della prima edizione dell'Italian Political Awards un premio ideato e promosso dall'associazione Italian Politics in collaborazione con la Università LUIS di Roma la LUIS School e la Federazione Relazionale Pubbliche FERPL FERPI questa è un po' la sigla di questi enti che hanno istituito questo premio è un po' la falsa riga di un premio che già è in vigore a livello europeo e che premia appunto i politici, gli amministratori che si sono distinti per il loro mandato in questo caso Mirko Carloni ha avuto una menzione speciale per il suo impegno per quanto riguarda la valorizzazione dell'agricoltura con i giovani Mirko Carloni è stato promotore di una legge che affida ai giovani il futuro della nostra agricoltura e questo appunto gli è valsa la menzione speciale per questo premio la seconda pagina del Corriere Adriatico è tutta dedicata alla nuova presidente dell'ente carnevalesca un nome nuovo che sorge alla ribalta si tratta di Valentina Bernardini che è stata una efficace collaboratrice di Maria Flora Gian Marioli la presidente che si è dimessa perché poi è data in lista con Fratelli d'Italia e che è stata sempre un po' in disparte non è che è apparsa alla ribalta della cronaca ora invece ha assunto con grinta e impegno il nuovo compito di portare, di traghettare la carnevalesca verso un futuro migliore del carnevale si è assunta tutte le sue responsabilità la firma in banca il compito di risanare le finanze dell'ente che sappiamo ha un deficit di 140 mila euro di valorizzare i carri di effettuare un buon rapporto con i carristi carnevalesca eletta una maestra d'asilo ebbene Valentina Bernardini svolge il ruolo di maestra nelle scuole materne della città sostituirà Gian Marioli come presidente si occupava nel corso della gestione della Gian Marioli di mascherate di rapporti con le fazioni insieme a lei è stata poi nominata vice presidente Cristina Fenocchi impiegata già componente del direttivo dell'ente carnevalesca nel triennio 2019-2023 e si è distinta nel corso di questi anni per l'opera di raccordo svolta con i carristi e questo era il suo compito un compito non facile perché poi i problemi dei carristi sono noti a tutti sono dei veri e propri artisti che però hanno sempre a che fare con l'esigenza di fare dei carri molto molto belli monumentali però con poche risorse e questo è un po' il vulnus della carnevalesca e poi dunque sono entrati anche due nuovi consiglieri al posto della Gian Marioli e dei Mirisola che sono i due consiglieri di missionari presidente e vicepresidente al loro posto sono entrati Alessandro Euseppi e Giannetto Paluzzi giriamo la pagina e passiamo alla cronaca dove una nuova rissa è accaduta nei pressi della stazione di Fano dopo quanto accaduto nei pressi di Piazza Andrea Costa quell'episodio di cronaca che ha movimentato il problema della sicurezza a Fano motivando le forze politiche a realizzare due convegni uno con il sottosegretario Prisco da parte di Fratelli d'Italia quell'altro invece con la presenza della nuova questora Monte Reali nella sala San Michele a Fano dove si sono presentati al pubblico il sindaco, l'assessore alla protezione civile Cristian Fanesi, l'assessore alla polizia locale Sara Cucchiarini e poi altri relatori compresa la comandante del comando di polizia locale Anna Rita Montagna Gruppo di giovani picchia un ragazzo agguato per prendergli il monopattino si tratta di persone immigrate che se le sono date di santa ragione anzi hanno infierito nei confronti di un ragazzo per sottrargli il monopattino la rissa è cominciata nel piazzale della stazione poi è proseguita anche all'interno un nuovo episodio di violenza che è stato però immortalato dalle telecamere che sono state posizionate nel piazzale della stazione poi vediamo un fatto di cronaca preoccupante poteva risolversi in una vera e propria disgrazia per fortuna questo non è avvenuto dorme dentro il cassonetto dei rifiuti rischia di essere tritturato a Calcinelli un 24enne finisce nel compattatore però l'intuito dell'addetto dell'autista del mezzo lo ha salvato vediamo un attimo che cosa è accaduto ebbene nei pressi di Borgaccio di Colli del Metauro un immigrato di origine marocchina di 24 anni non ha pensato di meglio che dormire e passare la notte in un cassonetto dove si ripone lo sfalcio dei giardini l'erba e i rami non aveva di che passare la notte quindi si è addormentato dentro il cassonetto alle 6.45 di ieri è arrivato il camion per svuotare il cassonetto ovviamente l'autista non si è accorto che dentro c'era una persona ha cominciato l'operazione ma per fortuna nel video di cui è munito appunto l'automezzo ha notato una scarpa e poi ha sentito anche dei rumori allora per paura di mettere nel compattatore un materiale straneo a quello degli sfalci ha bloccato tutto e poi ha trovato quello che c'era dentro non c'era solo una scarpa ma c'era addirittura una persona che ovviamente si era svegliata e si stava stava affannando per poter uscire ebbene il rischio era quello di finire sotto la pressa e quindi di essere schiacciato tritturato insieme agli altri sfalci che erano dentro il cassonetto ancora la cronaca questa volta siamo a Colli al Metauro è stato arrestato un pusher vende coca ed ecstasy contro la griffa è giovane arrestato mentre spaccia di guai un operaio di 34 anni di calcinelli in casa aveva 25 pasticche e mezzo di etto e mezzo etto di polvere bianca e quindi anche qui la cocaina che è stata trovata nella casa di questo venditore di questo operaio di 34 anni passiamo a Valcesano dove ritroviamo il sindaco di San Lorenzo in campo il sindaco dell'Onti che sappiamo ha riproposto un terzo mandato candidatura ufficiale che stavolta prima erano solo delle voci di rumors che stavolta invece è ufficiale che il sindaco dell'Onti si riproponga per altri cinque anni per governare il proprio comune ebbene il passato è stato costituito da dieci anni di risultati giusto ha detto proseguire e vediamo che cosa ha fatto in questi ultimi dieci anni dell'Onti ha ricordato che sono stati posti sono stati finanziati 9 milioni e mezzo di euro in opere pubbliche tra queste la nuova palestra polifunzionale la completa ristrutturazione della scuola primaria la riqualificazione del borgo di Montalfoglio e gli interventi contro il dissesto del territorio e il dissesto geologico passiamo ora alla pagina di Senigallia dove vediamo che per quanto riguarda gli alloggi alluvionati quelli dell'alluvione dell'anno scorso che sono da delocalizzare sono da spostare c'è una deroga per chiedere 150 mila euro di risarcimento verrà concessa fino al 30 di settembre c'è anche la fondo di Mangialardi la regione nega un tavolo con i sindaci ha dichiarato il consigliere regionale dunque si va verso la deroga fino al 30 settembre per le case alluvionate da delocalizzare ieri mattina in regione si è tenuto un incontro tra la struttura commissariale e la protezione civile nazionale nel corso della quale è stato discusso questo problema che è un problema cogente un problema importante soprattutto per coloro che risiedono in queste case ebbene per ottenere i 150 mila euro per riuscire appunto a ristrutturare un'abitazione oppure per farne una nuova c'è stato questa deroga e quindi i termini non scadranno adesso ma potranno essere così usufruiti fino alla fine di settembre e poi vediamo che a Monte Carotto terremoto Moncaro cacciati i soci in azienda arrivano i carabinieri la presidente Manetti hanno preso e hanno perso i requisiti un conferitore di apiro reclama il vino e poi scoppia il caos è stata veramente una giornata ricca di colpi di scena ieri alla cooperativa Viti Vinicola che è la più grande delle marche quella di Monte Carotto iniziata male la giornata con il rifiuto nella mattinata di Terre Cortesi Moncaro di consegnare il vino ad un'azienda agricola socia di Apiro e c'è veramente un problema di rapporti all'interno di questa azienda vediamo anche qualche notizia di Pesaro dove veramente le dimissioni di Nadia Storti hanno scosso dalle fondamenta tutta l'organizzazione della sanità pesarese Storti e il caos dopo l'addio l'ast e il nuovo ospedale rischiano ritardi sciagurati sono state anche espressioni dette dal sindaco Matteo Ricci che ha organizzato questa grande cena elettorale con 1600 persone così per così convalidare e sostenere la sua candidatura alle europee Storti e il caos dopo l'addio cercasi ora disperatamente qui è un articolo firmato da Simonetta Marfogli che ha firmato altri articoli sono due pagine dedicate a questo argomento la seconda pagina abbiamo le dichiarazioni proprio dette dal sindaco ne avevano imbroccata una sono riuscita a farla fuggire e anche Ceriscioli che parla l'ex presidente del regione Marche che è stato appunto punito elettoralmente a causa della sanità ora Ceriscioli si rifà ribaltando la frittata ai danni dell'attuale giunta regionale Storti e il caos dopo l'addio ancora una volta ebbene dopo che l'azienda sanitaria del San Salvatore e del Santa Croce è stata oggetto di nomine di commissari speciali come Maria Capalbo e Gilberto Gentili e ora Nadia Storti se ne va vuol dire che veramente non si è trovata la quadra per organizzare efficientemente tutta l'assistenza sanitaria nel territorio ci sono espressioni che evidenziano come ancora problemi permangono non siano stati risolti quelli della della così dell'emigrazione dei degenti degli ammalati presso altre strutture dell'Emilia Romagna e come dicevo anche ieri delle lungaggini per ottenere delle prestazioni di carattere diagnostico negli ospedali e nei poli ambulatori siamo preoccupati e molti dichiara il sindaco Matteo Ricci che ieri sera nella sua cena elettorale ha dato all'affondo troppo ghiotta l'occasione per non approfittarne ovviamente le dimissioni della Storti hanno causato anche molte ripercussioni di carattere politico tra Lega e Fratelli d'Italia sulle nomine Storti si è trovata a gestire l'ingestibile ha detto Ricci perché neanche la regione sa cosa vuol fare siamo nel caos ovviamente queste sono tutte dichiarazioni di carattere politico che però evidenziano un grosso problema quello del sostituto della direttrice generale appunto della sanità pesarese qui oltre ogni aspettativa a destra mentalità piccola sono ancora dichiarazioni che sono state rilevate dal sindaco Ricci nel corso della cena per 1600 persone che ha organizzato con un fine elettorale per la candidatura alle europee passiamo alla cronaca schiaffi e minacce ai suoi studenti un professore di tecnica finisce a processo gli episodi contestati sono accaduti all'epsia di Benelli all'epsia Benelli il docente adesso insegna in un altro istituto sembra che ci siano state spinte parole grosse addirittura schiaffi tra professore e studenti studenti poi che hanno anche reagito perché ovviamente quando un professore attacca fisicamente uno studente la cosa diventa molto molto seria e molto grave ed ora tutto questo è finito davanti al giudice giriamo ancora la pagina e vediamo che la variante per quanto dell'ultimo consiglio quella che tira in ballo l'abitato di Soria viene contestata apertamente variante all'ultimo consiglio e noi faremo ricorso al TAR hanno detto i residenti riuniti in assemblea appunto quella di Soria variante di largo tre martiri il 18 aprile nell'ultimo consiglio comunale del mandato per il voto finale la viabilità concessa è un contentino se la delibera passa faremo ricorso al TAR quindi non basta questa piccola riforma della viabilità per fare approvare la variante di largo tre martiri ed ora chiudiamo il Corriere Adriatico e apriamo il resto del Carlino dove l'apertura è dedicata a quell'episodio di cronaca che ha causato grossi rischi per l'incolumità appunto di un giovane che si è addormentato nel cassonetto a Calcinelli a Borgaccio di Calcinelli un 24enne marocchino che non aveva altro giaciglio di un carico dell'erba insomma proprio un modo per passare la notte certo inusuale e ieri sera a Fano si è tenuto intanto il gran galà del calcio mercato l'originale di Sky Sport presentazione al Teatro della Fortuna a Fano andrà in onda questa trasmissione dal 3 al 7 giugno poi la trasmissione si sposterà alla Rotonda di Senigallia e in altre 7 città e proprio ieri sera al Teatro della Fortuna erano presenti i rappresentanti di questa città che ospetterà la popolare trasmissione sportiva Senigallia poi ancora Alassio in Liguria Cervia Milano Marittima Grado nel Friuli Venezia Giulia e poi ancora Reggio Calabria quindi da una parte all'altra della penisola infine in Val di Fassa nel Trentino ebbene ieri non c'erano gli esponenti politici a così presentare questa manifestazione perché nel frattempo che cosa è accaduto? E' accaduto che c'è stata è venuta fuori la disposizione che la disposizione che riguarda il silenzio elettorale il riferimento è alla legge del 22 febbraio del 2000 che all'articolo 9 recita che dalla data di convocazione dei comizi elettorali e fino alla chiusura delle operazioni di voto è vietato a tutte le amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione ad eccezioni di quelle effettuate in forma impersonale ed indispensabili per l'efficace assolvimento delle proprie funzioni e quindi non ci saranno più dichiarazioni da parte degli amministratori per quanto riguarda il loro operato ed è stata annullata anche la riunione la diciamo così l'incontro che il sindaco Massimo Seri aveva programmato al teatro della fortuna oggi pomeriggio per fare un bilancio dei propri dei suoi dieci anni di attività d'ora in avanti ci sarà appunto il silenzio dovuto appunto da ragioni legislative vediamo ancora ecco un articolo che è interessante quello che pubblica il resto del Carlino per la Sassonia dove sono in arrivo 130 posti liberi i nuovi parcheggi offerti da privati l'assessore Brunori promette anche altro ha detto andremo ad asfaltare molte strade nella zona mare poi anche il resto del Carlino evidenzia la nomina della nuova presidente della carnevalesca Valentina Bernardini di cui qui vediamo una bella fotografia vediamo anche un'ultima notizia arrestato lo spacciatore all'ingrosso di cocaina di questo abbiamo già parlato i carabinieri lo hanno bloccato mentre vedeva la droga ad un consumatore mentre per Urbino si parla della lista Giovanelli Urbino rinasce ecco i candidati di sinistra e antifascisti l'ex sindaco di Pesaro a sostegno di Federico Scaramucci io sono di Urbino ha detto e qui vivono mia mamma mia figlia e i nipoti quindi una cittadinanza veramente conclamata e questo è tutto per il momento chiudiamo i giornali io come sempre vi do appuntamento a lunedì prossimo alle 7 del mattino grazie per l'ascolto e a risentirci